Non ci sono elementi che comprovino l'istigazione al suicidio. È la conclusione cui è pervenuta la procura di Catanzaro che ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Giancarlo Giusti, l'ex GIP del Tribunale di Palmi, 48 anni, che si è suicidato il 15 marzo di un anno fa nella sua abitazione di Montepaone, dove aveva l'obbligo di dimora in seguito ad una condanna per corruzione aggravata. Il sostituto procuratore Fabiana Rapino, per non lasciare nulla al caso, aveva aperto un fascicolo contro i gnoti disponendo l'autopsia sul corpo del giudice e procedendo alle audizioni di persone informate sui fatti. Le risultanze probatorie però sono state univoche. Giusti ha deciso senza alcuna costrizione di uccidersi. aveva tentato di togliersi la vita in passato già due volte, la terza gli è stata fatale, perché di essere additato come colui che indossava la toga al servizio della mafia, era un'onta che solo la morte poteva cancellare. Il primo tentativo di suicidio risale al 2012 nel carcere di Opera, il giorno dopo la condanna a quattro anni di reclusione inflittegli dal Tribunale di Milano per i suoi presunti rapporti con la cosca Valle Lampada attiva nel capoluogo Lombardo. Nel febbraio 2014 Giusti fu coinvolto in una nuova inchiesta, l'operazione Abbraccio, in cui fu accusato di aver favorito il clambellocco, un'accusa dopo l'altra a cui Giusti ha risposto, secondo il suo legale, uccidendosi proprio per dimostrare la sua innocenza. Gabriella Passariello per la Cineus 24